Buongiorno e benvenuti, io sono Nicola Di Le Ferre, oggi siamo in compagnia dell'amico e chef Donato Calvi dell'omonimo ristorante di Altamura, benvenuto Donato. Buongiorno Nicola, cosa ci prepari oggi di buono? Oggi prepariamo un bauletto morbido con olio extravergine aromatizzato e porcini, in due varianti, tartare di scoltona e costata di scoltona, una maionese vegetale con olio aromatizzante e limone e cavolo rosso marinato. Perfetto. Mi dai una mano Nicola? Con molto piacere Donato. Grazie. Grazie. Grazie a tutti. Grazie a tutti. Grazie a tutti.